Buondi ragazzi, buona domenica, sono abituato male perché in realtà noi giochiamo il sabato spesso, buon sabato, il weekend è ancora lungo quindi buon weekend a voi, ma parliamo ragazzi di ieri, di ieri perché insomma c'è qualche dato e qualche cosa che va analizzata un po' più a freddo, ecco. E quindi questo video è l'analisi a freddo della partita di ieri in vista anche delle prossime, partiremo dalla partita di ieri, faremo un'analisi macro e poi dopo parleremo anche del futuro, di quel che ci aspetta perché ho diverse cose da dire, sono contento, contentissimo che ho trovato pochissimi commenti che da una parte esaltavano di nuovo Allegri per questa vittoria, Dall'altra parte invece ho trovato pochi commenti disfattisti legati alla partita di ieri, ma non disfattisti della serie, bene abbiamo giocato bene dando merito alla squadra, ma commenti che andavano a sminuire la prestazione di ieri. Ebbene badate che si può stare nel limbo e nel mezzo analizzando bene tutte le sfaccettature della partita di ieri perché quando io trovo delle cose troppo polarizzate un po' mi spavento e penso che ci sia un'alimentazione di certi pretesti per rafforzare determinati pregiudizi che abbiamo. Quindi io ragazzi vi dico vivete questa Juve senza pregiudizi, senza battaglie politiche, Allegri in, Allegri out, cerchiamo di valutare bene la situazione attuale, contestualizziamola al tempo attuale e vi dirò tutto quello che c'è da dire, tutto quel che riguarda il mio pensiero, che in una stagione complicata è anche difficile da cogliere e spesso molti vanno nella banalizzazione e nell'etichetta. Non fatelo, però aspetto i vostri commenti sotto che devo dire già ieri nel post partizione ne ho trovato molto pochi ed è una cosa che mi ha fatto estremamente piacere perché abbiamo ponderato il commento, significa abbiamo ragionato prima di scrivere e ho letto tantissime cose sensate ma anche tantissime, passatemi il termine, critiche ovvero oggi abbiamo fatto bene ma non abbiamo dimostrato nulla, tutte cose molto condivisibili, molto condivisibili. Però, ecco, prima di iniziare vi invito ovviamente a iscrivervi al canale che ieri nell'Euforia per esempio, non ve l'ho ricordato ma ve lo ricordo oggi, iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi, scaricatela a PuanFootball perché brevissimo, tante tante novità, mi raccomando scaricatela è gratis, trovate il link in descrizione. La migliore app per rimanere aggiornati è sul pezzo, sul calcio, sulla Juve, Highlights, c'è tutto là, mi raccomando. Ora, parliamo della partita di ieri, è solo della partita di ieri, poi la contestualizziamo nel contesto, in un contesto temporale un po' più ampio. Parlando della partita di ieri, io a parte i 20 minuti del primo tempo, mi sono sbagliato ieri nell'Euforia del video, ho detto secondo tempo, no, il primo tempo, 25 minuti finali che non mi sono piaciuti affatto, la Juve ha trovato il gol ma poi ha avuto quell'atteggiamento passivo e ha dovuto andare negli spogliatoi per darsi una svegliata e un secondo tempo estremamente positivo, ma estremamente positivo non lo metto nei termini tattici, cioè non mi riferisco alla tattica, all'idea di gioco, ma all'atteggiamento in primis. Una Juve che aveva voglia di divertirsi, di segnare, poi lasciate perdere tanti strafalcioni tecnici, tanti passaggi sbagliati, tanta organizzazione che manca a questa squadra. Tuttavia ieri abbiamo spazzato via l'Empoli e c'è qualcuno che dice che la vittoria è casuale, non è casuale, perché il dato sui expected goals che tanto viene decantato da chi usa tanto la statistica per dar voce alle proprie idee dice esattamente il contrario, una Juve che ha avuto 3,79 il dato sui expected goals a favore della Juve, mentre 0,5 all'Empoli. Per cui una vittoria che 4 a 0 ci sta, ci sta alla grande. E devo essere sincero, una Juve che poteva anche con un po' più di precisione in certe situazioni, la situazione di Miretti, il colpo di testa di Mieli, con un vicario che si è superato ieri perché altrimenti il vantaggio sarebbe stato anche più ampio. Però l'atteggiamento in particolare della squadra e di ragazzi mi è piaciuto. Ripeto, la cosa che non mi è piaciuta è la partita ai 25 minuti e il primo tempo di tutta la catena di destra che è stato disastroso. Poi però, devo essere sincero, una Juve che ha vinto in scioltezza, in fiducia, che si è divertita, è la cosa che mi ha fatto estremamente piacere. Ma poi la cosa incoraggiante è il fatto che questo atteggiamento positivo sia stato evidenziato dalle prestazioni per esempio di Locatelli, di Moise Ken, gente che è stata bistrattata e iper criticata, a volte giustamente per il rendimento in campo, ma che ieri hanno avuto uno spirito di rivalsa, una voglia di giocare a calcio e hanno portato insomma delle ottime prestazioni. Queste motivazioni probabilmente hanno fatto scattare la molla e hanno giocato bene. Hanno giocato bene. Per cui, ripeto ragazzi, se facciamo l'analisi statistica del mero possesso palla, ci sono squadre che lasciano il possesso palla agli avversari, ma poi nella sostanza, nella concretezza, gli expected goals, le situazioni create, le occasioni da gol, è un'altra cosa eh. Ci sono squadre che non dominano il gioco sul piano del possesso palla e non consolidano il possesso palla, tuttavia sanno segnare, sanno creare molto più di chi tiene palla e magari in maniera molto sterile o con i passaggi orizzontali. E la Juve ieri ragazzi ha lasciato il possesso palla all'Empoli, tuttavia non si è fatta dominare a livello territoriale, ma ha cercato poi nel secondo tempo di stare in pianta stabile nella metà campo avversaria. Quindi è da premiare l'atteggiamento dei ragazzi. Sull'organizzazione tattica io ho sempre qualche dubbio, tant'è vero che non è che con questa partita che abbiamo vinto e con la gioia che vi ho palesato e mostrato, perché era da tempo che non mi vivevo tranquillamente ragazzi in una partita della Juve. Era da tanto tempo, cioè le vittorie che abbiamo avuto le abbiamo vissute quasi tutte col brividino della serie. Cosa può succedere adesso? Questa bene o male è andata un po' liscia come l'olio e lasciatemela godere un pochettino. Poi al Benfica ci penserò e so benissimo che questa prestazione non è indice di un'uscita dalla crisi. Per uscire dalla crisi bisogna inanellare una serie sia di risultati ma anche di prestazioni positive, altrimenti dalla crisi non se ne esce. Punto, perché io vi dico basta vincere anche con Lecce, però perdiamo con Benfica, Paris, Inter e Lazio ed è crisi nerissima, altro che usciti dalla crisi. Per cui dico a chi ha ridato vita all'Allegri Inn, Allegri Fenomeno, dovete stare zitti. Chi fa le guerre delle legioni, attenzione, perché le bucce di banana più grosse le abbiamo da qui in avanti, non ora, l'Empoli era una bucetta di banana che abbiamo saltato in maniera molto agevole, sono contento, molto contento, tuttavia le prossime saranno belle grosse da schivare, per cui dobbiamo stare molto attenti perché la nostra squadra è molto fragile ancora. L'ho dimostrato anche nella gestione del primo tempo con l'Empoli. Quando troveremo squadre un pelo più attrezzate, che magari sono un po' più organizzate dello stesso Empoli o che magari hanno una certa incisività offensiva di una certa potenza, le cose cambiano, quindi bisogna avere un approccio come il secondo tempo, ma con concentrazione, cattiveria, voglia di far bene e poi un po' di organizzazione in più, ecco che non guasta, ok è una cosa che chiedo, ma non guasta. Però, ripeto, questa vittoria è stata positiva perché ho visto anche delle belle trame di gioco quando la Juve gioca spensierata, cioè l'azione dove tira a Miretti con Eling Junior che sfrutta tutta la fascia, fa quel retropassaggio, Locatelli che apre su Miretti, Miretti finta di corpo e tiro, poi parata di Vicari anche là, cioè quella è un'ottima azione ragazzi. Cioè il gol di Moise Ken, il primo gol, non è un gol casuale. Quello è un cross che Kostic ha messo costantemente da quando è arrivato alla Juve e non siamo stati in grado di sfruttarlo. Stavolta Moise Ken l'ha sfruttato bene. E quando si mette a fare, ripeto, il maialino d'aria di rigore, come li chiamo, il porco d'aria di rigore, quello che butta dentro i palloni in porta senza neanche star lì a guardare il gesto tecnico esteticamente perfetto. Cioè uno che gioca anche in maniera sporca ma te la butta dentro. E Quinzaghi forse è la cosa più eclatante di questa tipologia di giocatore, però un giocatore che pensa a buttartelo dentro. Moise Ken quando lo metti in aria di rigore fa quella roba là, te la butta dentro, ma poi ragazzi era fornito anche una grande prova di sacrificio a fatto recupero a palla nella nostra area di rigore in scivolata. Lo ricordo molto bene, per cui ho apprezzato l'atteggiamento di Moise Ken anche con tutte le imprecisioni tecniche del caso. Stessa roba, la crescita di McKennie nel secondo tempo e anche di Panita Quadrato, perché Quadrato nel secondo tempo era una cosa, nel primo tempo era una roba horror. Io pensavo che l'avrebbero espulso, perché se continuava col Pia del primo tempo lo buttavano fuori. Entrava in ritardo, non saltava l'uomo, si intestardiva, teneva palla, cercava di proteggerla e pesa 10 kg bagnato. C'era ovviamente Parisi che gli sfilava la palla mille volte. Due volte è successo, mi sono arrabbiato tantissimo nella live reaction, probabilmente trovate anche qualche mio sfogo in quel momento là, però nel secondo tempo la squadra è cresciuta, è cresciuta molto. Io sono contento, cioè essere soddisfatti della prova di ieri non significa che a livello generale sono contento perché la Juve è uscita dalla crisi, cioè sono due cose differenti. Io non sono convinto che la Juve sia uscita dalla crisi, perché ti basta prendere due sberle contro il Benfica e devi dimostrare sei punte a capo. Però ieri bisogna essere obiettivi, bisogna mettere l'oggettività davanti a tutto e dire la Juve ieri ha giocato meglio, ha giocato bene nel secondo tempo con qualche imprecisione tecnica, ma la Juve ha giocato bene e ha strameritato. Non lo dice solo Colpo Gobbo che guarda la partita, lo dicono anche i dati, per cui i dati vanno guardati bene, perché poi qualcuno mi dice eh ma il possesso palla, e i dati meteorologici allora piove, non piove, perché non c'entra una beata mazza, scusate, perché se noi guardiamo la produzione offensiva, la misuriamo come? Con questa misura qua, con questo algoritmo degli expected goal, sapete quanti goal poteva segnare la Juve? 3.79, ne abbiamo fatti 4, direi che va bene no? Poi abbiamo segnato due gol da calcio d'angolo, abbiamo fatto delle cose incredibili, doppietta di rabbio, cioè più di così, perché non devo essere contento per ieri? Ripeto, l'entusiasmo passa una volta che poi inizia a ragionare col Benfica, perché col Benfica ho paura, non sono convinto che la Juve andrà a Lisbona e vince dopo questa partita, perché abbiamo sicurezza e siamo usciti dalla crisi, no, 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 dobbiamo pensare partita per partita, prepariamo partita per partita, poi arriviamo al 13 di novembre, tiriamo una linea, una striscetta, e facciamo un bilancino, facciamo le somme, le differenze, vediamo un po' che cosa è successo, cosa non è successo, cosa è andato bene, cosa non è andato bene, e da lì poi si fa un bilancio totale della situazione, e si fa anche una proiezione in vista del futuro, la Juve con quest'andazio riesce ad arrivare in Champions, e il caso di cambiare allenatore, si faranno mille valutazioni, per cui ci aspetta un filotto di partite molto complicato, per intenderci, giusto per, o il calendario sott'ucchio, ma perché mi fa, a memoria abbiamo adesso, il Benfica, il Lecce fuori casa, Lecce fuori casa, poi abbiamo, se non vado errato, dopo il Lecce dovrebbe esserci il PSG, calendario, Juve, dovrebbe esserci il PSG, poi c'è l'Inter, poi c'è l'Elas Verona fuori casa, squadra tosta, che a mesce il Milan in grossa difficoltà, e poi Juve Lazio, cioè, ora noi possiamo permetterci di dire, che dopo Juve e Empoli, ah, io ero uscito dalla crisi, perché gli ho dato 4 peri all'Empoli, e no, ci aspettano 5 partite veramente toste, quella con Lecce, è fuori casa, ed è una buccia di banana, che va comunque superata, la Juve è tecnicamente più forte, mi aspetto i tre punti, però, però, è la classica bucciata di banana, se la Juve mi inanella, una vittoria col Benfica, una vittoria col Lecce, una vittoria col PSG, una vittoria, un pareggio con l'Inter, una vittoria, con l'Elas Verona, una vittoria, un pareggio con la Lazio, possiamo dire che questo bilancio positivo, va valutato in base anche alle prestazioni, se le prestazioni sono buone, basta, vuol dire, stiamo uscendo dalla crisi, stiamo ritrovando un'identità, poi c'è da dire che, ragionando la partita di ieri, in un contesto che funziona così bene, immaginarsi un Di Maria in più, un Chiesa in più, un Pogba in più, e la colina ti viene in bocca, nel vedere una Juve differente, però ripeto, prendiamo partita dopo partita, non lasciamoci andare i facili entusiasmi, godiamoci, ogni singola giornata, ogni singola vittoria, in un certo modo, senza, ahimè, non abbiamo la possibilità di proiettarci al futuro, perché questa Juve è matta, è matta, questa Juve ha vinto contro Bologna, Maccabi, Spezia, e poi ha preso sberdo da chiunque, quindi, piano con le illusioni, piedi per terra, ragionare partita per partita, ripeto, la mia euforia di ieri, era legata alla prima partita della Juve, che ho visto di quest'anno, la prima vittoria della Juve, che ho vissuto serenamente, con tanti gol, dove mi sono divertito, aspettavo sempre di gol successivo, una Juve che non ha addormentato il gioco, una Juve che non mi ha fatto annoiare, mi ha divertito, mi sono divertito, nonostante, ripeto, la modestia dell'avversario, c'è da dire questo, ma, se proprio vogliamo prendere di mira l'avversario, l'Empoli mi pare più forte del, del Monza, per intenderci, ho almeno dimostrato finora, ora poi il Monza si sta riprendendo con Palladino, però fino a quel Monza là, questo è il più forte, abbiamo fatto degli scivoloni con Samp, che non segna neanche a spararlo, e quelli là hanno preso, traversa con l'iris, me lo ricordo benissimo, benissimo, per cui, qualche passino avanti, l'abbiamo fatto, non lo so, perché bisogna riconfermarsi, per dire se i passi in avanti li abbiamo fatti, e se erano le prossime partite, ma detto questo, non voglio sentire nessuno, che va a sindacare sulla mia e furia legata ieri, perché se io ieri mi sono divertito, e ve l'ho esternato, perché son vero e son genuino, non cerco battaglie, non appoggio battaglie di religione, io tifo per la Juve, e lunedì ripeto, parto a Lisbona, per vedere la partita, e vada comunque vada, sosterro la mia squadra, poi capisco che tanti abbiano l'antipatia, nei confronti dei Allegri, e sperano nel disastro più totale, per cacciarlo, io no, io ripeto no, io quando critico Allegri, critico la Juve, lo faccio con la morte nel cuore, sempre, con il dispiacere di dover dire determinate cose, perché mi piace commentare, la Juve è vincente, mi piace l'euforia, mi piacciono i sentimenti positivi, qualcuno gli piace incupirsi, e a me no, a me no, ed è per questo che da parte mia, troverete un atteggiamento, quando vedo un barlume di speranza, un orizzonte, una prospettiva, un po' di positività, ecco, tutto qua, ma detto questo, rimango molto ancorato a terra, molto ancorato a terra, perché la strada da fare è ancora lunga, e bisogna dimostrare, partita dopo partita, signori, questo è tutto, e vi auguro un buon sabato, buon sabato, buon weekend, poi magari ci vediamo per appuntamenti, commenti di altre partite, credo che per Roma-Napoli, faremo magari una diretta insieme, o il post partita, non lo so, dipende un po' dagli impegni che ho in quei giorni, però, insomma, ci vediamo presto, non preoccupatevi, non vi abbandono sto weekend, sarò sempre di sul pezzo, a commentare, a vedere se escono notizie, se escono novità, e vi mando un forte abbraccio, e sempre fino alla fine, forza Juve!